Sosteniamo la differenziata. Sotto questo slogan il sindaco Michele Conia e l'intera amministrazione di Cinque Frondi hanno annunciato che sarà offerto un ulteriore servizio, saranno recapitati direttamente alle famiglie col servizio porta a porta e i sacchetti per l'umido. Questa nuova soluzione oltre a favorire la raccolta da parte dei cittadini ed evitare ulteriore perdite di tempo dovrà contribuire ad aumentare il quantitativo di differenziata raccolta, favorendo così il sistema di premialità previsto dall'amministrazione comunale, consentendo ad ogni utenza, che correttamente adempirà alla raccolta differenziata, di avere uno sgravio di 30 euro nella prossima bolletta. Nel riconfermare l'impegno in direzione di uno sviluppo ecologicamente sostenibile, il sindaco Conia, nell'intendimento di ridurre gli effetti delle incariche la regione Calabria ha già imposto ai comuni, invita tutti i cittadini a continuare come sempre e con maggiore attenzione la raccolta differenziata, sia per avere un paese pulito e civile, sia per poter attenuare gli effetti degli stessi rincari. Nel ringraziare la cittadinanza per le percentuali di raccolta differenziata già raggiunte, il sindaco ribadisce la necessità e la possibilità di compiere un ulteriore sforzo per una 5 fronti all'avanguardia dal punto di vista ecologico. Grazie per la visione! Grazie per la visione!